carissimi amici e amiche specie che sta seguendo la diretta abbiamo introdotto questa nuova puntata dei nuovissimi con una splendida canzone degli Hillsong che consiglio vivamente questa parla della vittoria di Cristo sulla morte anche se in inglese però in inglese abbastanza comprensibile abbordabile diciamo così che è l'argomento con cui ci siamo congedati la volta scorsa che abbiamo approfondito la volta scorsa di come Nostro Signore è entrato nella morte per distruggere la nostra morte abbiamo visto la dinamica molto significativa molto profonda della redenzione ho visto che è arrivato qualche bel commento che mi ha detto ha commentato finalmente ho capito perché Nostro Signore Gesù Cristo è morto in croce perché mica tutti lo hanno chiaro ed è una delle cose più importanti che dobbiamo avere chiare perché la gratitudine per questo deve essere più che infinita nei confronti di Nostro Signore oggi concluderemo se Dio vuole il tema della morte siamo alla quinta puntata e forse cominceremo anche a diciamo introdurre un po' il secondo nuovissimo che è appunto quello del giudizio vediamo quanto tempo ci porta via questo questo ultimo step e l'ultimo step è la visione cristiana della morte abbiamo già introdotto la volta scorsa cioè la morte come il ritorno in patria cioè noi dovremmo stare a aspettare il giorno della morte come dire quasi torna a casa casa mia casa nostra mi viene in mente facciamo una parentesi un po' fantasy poetica chi ha visto lo Hobbit la serie dello Hobbit quando Thorin scudo di quercia ecco vede la montagna ecco la montagna depredata posseduta dal drago cattivo alza gli occhi e dice casa nostra eh casa nostra casa nostra c'è una bellissima canzone popolare mariana che andrò a vederla un dì nel cielo patria mia se perdiamo questa dimensione amici cari cioè io ho detto e ridetto e continuo a dire a ridire e a ridire a ridire un cristiano che ha paura della morte ora non è un buon cristiano c'è qualche problema perché la morte intesa in un certo senso noi siamo amanti della vita d'accordo non siamo mortuari non siamo becchini né macabri o dark capito tra poco cominceranno le consuete pantomime macabre e tra l'altro pure un bel po' sataniche però vabbè non parliamo di queste cose in questo questo contesto dato che siamo nel mese di ottobre che come ben sappiamo come tutti sappiamo finisce il 31 ecco quindi con con rituali sempre più seguiti e che sono anche il fatto che siano sempre più seguiti sono un altro segno dei dei brutti tempi in cui stiamo vivendo dei tempi difficili che stiamo vivendo ma per noi la morte non è la morte per noi la morte è la vita cioè un cristiano dovrebbe vivere una vita in cui sospira cioè noi siamo qui sulla terra ma la nostra patria è in cielo cioè stiamo qui sulla terra per carità vivendo in comunione con Dio gustando anche le tante cose belle che il Signore sono tante ci fa vivere in questa terra in questo mondo che vive in comunione con Lui nella sua divina volontà conosce tante cose bellissime conosce tante delizie tante meraviglie però è sempre poca roba in confronto a quello che ci attende poca roba pochissima roba e dato che facciamo sempre i ping pong tra i cicli di catechesi basta sentirsi un po' di tenera amata ecco per avere una pallida idea di quello che in parte ci aspetta solo come un gloria occidentale in paradiso è solo una mancanza di conoscenza accompagnata quasi sempre da una latitanza di fede che può causare in un battezzato la paura o il terrore della morte ciò che io ho sempre come dire profondamente biasimato mi ha profondamente addolorato e da questo mi sono chiamato completamente fuori negli ultimi tempi che abbiamo vissuto ecco ovviamente chi può capire capisca ma non è che ci vuole una grandissima scienza infusa è il terrore della morte è la convinzione pervasiva diffusa universale che arriva orrore dobbiamo salvarci dalla morte se ci fosse un un trilionesimo diciamo così dai facciamo un trilionesimo dello zelo manifestato in questi tempi per salvarsi dalla morte tra l'altro con mezzi che vabbè discutibili se un trilionesimo di quello zelo fosse trasferito nella attenzione a salvarsi dalla morte eterna che è l'unico problema non la morte corporale alla morte eterna e avremmo veramente svoltato svoltato la grande comunque evito di perdermi in ulteriore chiacchiere introduttorie velatamente polemiche solo velatamente però e andiamo a affrontare il nostro tema di oggi la morte come ritorno in patria andiamo a casa nostra qui già stiamo a casa nostra e la la casa nostra è la santa chiesa di cristo casa nostra non ci sono altre case ma ridotta purtroppo in crisi purtroppo però ad esempio attenzione la chiesa terrena è travagliata ma la chiesa di cristo c'ha adesso tre dimensioni ci stanno i santi non facciamo parte della chiesa noi stiamo in comunione con i santi che stanno in cielo stiamo in comunione con padre pio con santo alfonso i santi di cui siete devoti i santi san luigi maria grignonda monfort santa teresina santa gemma tutti quelli che volete noi stiamo in comunione noi stiamo a casa nostra noi siamo membri della chiesa cattolica i cui membri insigni che hanno già superato la prova stanno in cielo sono amici nostri amici nostri siamo concittadini dei santi e familiari di dio dice il grande apostolo prima cosa poi ci sono le anime sante del purgatorio lo vedremo tra un mesetto qui ne parleremo durante il ciclo dei sono comunque anime sante si stanno purificando e poi ci siamo noi sì nel seno della chiesa stanno tanti peccatori sì stanno tanti peccatori tra i figli della chiesa la chiesa non è peccatrice i figli della chiesa in questo mondo possono essere peccatori poi bisogna vedere se sono figli della chiesa vedi perché i peccatori impenitenti anche se sono battezzati non fanno parte della chiesa sono corpi estranei noi non possiamo saperli in questo mondo perché qualunque grande peccatore prima della morte potrebbe pentirsi così come qualunque grande apparentemente santo prima della morte potrebbe impazzirsi ecco perché qui sulla terra non si danno mai giudizi definitivi oh però dentro la chiesa non ci stanno soltanto i peccatori perché quelli che vengono canonizzati un tempo stavano sul pianeta terra non è che sono stati canonizzati così quindi anche adesso in giro e anche in questo periodo così travagliato e così duro e così difficile ricco di tante situazioni estremamente dolorose estremamente che fanno piangere lacrime che fosse capace anche lacrime di sangue però in giro ci stanno i santi stanno qui in giro adesso che il Signore ci rifaccia conoscere adesso perché qui stiamo a casa nostra anche qui certo qui abbiamo una una casa che può essere come dire devastata che può essere picconata può essere marridotta quello che disse San Francesco il Signore San Francesco va e riparo la mia casa perché va e rovina sulla terra la dimensione terrena della Chiesa purtroppo può essere rovinata può essere mezza mandata e rovina ma noi non dobbiamo guardare a questa anche il problema del tempo cioè noi stiamo in una dimensione storica siamo in un arco di tempo temporale ma la Chiesa ha conosciuto tempi di gloria ma sono sede la Chiesa del XIII secolo l'anno d'oro era una cosa meravigliosa e anche momenti belli pur se travagliati grandi pontificati grandi santi grande scuole di preghiera di spiritualità quindi bene quindi con questa iniezione spero di di fiducia perché non è che i problemi non ci sono la nostra carità io sono il primo ad esserne ahimè più che consapevole però dobbiamo sempre rimanere dentro questo arco per non fare pazzie per non fare sciocchezze ma neanche pensarci a pazzie o a sciocchezze perché noi attendiamo di tornare a casa nostra ma già siamo a casa nostra e la casa nostra non si abbandona non si lascia non si può e non si deve lasciare ma è per nessun motivo allora andiamo a vedere anzitutto un paio di testi sul tema di oggi e guardate il grande San Paolo guardate no? Filippesi 1 21 23 questo dovrebbe essere attenzione ora lo leggo ma chiunque leggendo queste cose dovrebbe poterle fare le sue ad litteram sine glossa diceva San Francesco D'Assisi scrive San Paolo per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno un guadagno è proprio un guadagno un guadagno un guadagno un guadagno un kerdos un kerdos in greco ok lucrum in latino che è ancora più bello poi aggiunge quindi vivere è Cristo morire un guadagno se io muoio ci guadagno che significa? quando noi guadagniamo vuol dire che andiamo a stare meglio no? ci abbiamo più risorse ci abbiamo più beni avendo più soldi possiamo toglierci più sfizi possiamo godere di più i beni temporali o no? morire è un guadagno però aggiunge l'apostolo se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto non so davvero cosa debba scegliere è troppo forte non so cosa debba scegliere ti sono messo alle strette infatti tra queste due cose 723 da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo il che sarebbe assai meglio pollo mallon creison pollo mallon creison in greco il desiderio di essere sciolto per essere con Cristo essere sciolto per essere con Cristo dall'altra parte è più necessario per voi che rimanga nella carne capiamo questo conflitto no? parafrasando di maniera buona per ciascuno di noi io sono un prete posso farlo quasi uguale insomma nel senso che io devo dire al Signore a me se non concesso che io non faccia solo danni alle anime quindi sarebbe meglio partirsene subito perché tutto da dimostrare che non sia ma se tu dovessi servirti di qualche cosa non so come fai di me per fare qualcosa di bene se tu mi dici se tu resti in altri 30 anni sul pianeta Terra attraverso di te salvo un'anima rimaniamo che dobbiamo fare un'anima ha un valore inestimabile quindi pazienza rimandiamo il 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 super godimento la stessa cosa vale vale per noi cioè noi dobbiamo desiderare fino a quando devo stare sul pianeta Terra fino a quando non avrò compiuto fino alla fine la mia missione quello che disse Gesù sulla croce l'abbiamo visto una volta scorsa forse consummatum mest disse per adempiere la scrittura ci mancava solo una cosa ha fatto pure l'ultima fatta quella abbiamo finito mo ci andiamo a riposare questo quindi sui nostri desideri di morire il più presto possibile dobbiamo temperarli primo sul fatto che dobbiamo fare fino in fondo la nostra missione e secondo amici miei suggerimento paterno poi avremo modo di riprenderlo più avanti con altri nuovissimi calm down nel senso che non abbiamo troppa fretta perché se si muore troppo presto senza aver fatto abbastanza penitenza si fa tanto purgatorio quindi io vi invito e vi esorto stasera ho fatto una predica sulla libertà perché ci sono cose del tutto volontarie non è che tu sei obbligato a fare la penitenza sacramentale che ti dà il confessore quando devi a confessare e basta poi ovviamente i digiuni e le penitenze imposte dalla legge della chiesa la carne il venerdì solo due digiuni l'anno insomma che non è che uno si cambia la camicia che ha queste grandi tutto il resto dipende da te cosa vuoi offrire dal signore quanto ti senti che tu debba padre Pio diceva pagare e se lo diceva padre Pio se può dire come ispirazione dei tuoi peccati quindi perché va bene non vedere l'ora da arrivarci ma dobbiamo arrivarci con i conti pagati se no si pagano dopo davanti a Dio non ci sono parzialità di persone Dio non fa parzialità di persone non ci sono accettazioni non ci sono figli dell'oca bianca altro brano significativo sul tema seconda lettera ai Corinzi capitolo quinto just a moment allora versetto 6 così dunque siamo sempre pieni di fiducia bellissima e sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio lontano dal signore esilio camminiamo nella fede non ancora in visione siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il signore bellissimo qui San Paolo gioca sul termine esilio il verbo greco è ecdemeo essere in esilio ec no ecdemos ma ec in latino è domus no quindi lontano dalla casa allora anzitutto siamo pieni di fiducia noi camminiamo pieni di fiducia perché? perché il nostro signore ci vuole con lui in cielo morto in croce per noi siamo soltanto noi che possiamo chiuderci a questa prospettiva certo come vedremo non è una cosa così tanto difficile ahimè però siamo pieni di fiducia ora siamo anche consapevoli che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio e lontani dal signore in che senso? cioè noi attraverso la fede attraverso la conoscenza attraverso l'amore attraverso i sacramenti possiamo molto avvicinarsi al signore diventare suoi intimi anche in questo mondo però è un'intimità sempre vissuta nella fede nella fede dicevo nella meditazione di questa mattina se tu impari a stare davanti al santissimo sacramento vivrai delle cose meravigliose bellissime ma sempre velate dalla fede perché tu Gesù nell'eucaristia non lo vedi quindi non ne gusti la bellezza neanche della sua santissima umanità vedi sempre i veli eucaristici quindi poi continuo ancora siamo pieni di fiducia siamo pieni di fiducia pieni di fiducia e preferiamo vedete qui gioco sul termine esilio io mi trovo in esilio nel corpo e preferisco andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore e bellissime parole di quel meravigliosissimo spettacolare Salmo 84 non si dice in italiano meravigliosissimo è un neologismo per amplificare la bellezza straordinaria di questo Salmo beato chi abita la tua casa sempre canta le tue lodi quanto sono amabili le tue dimore Signore degli eserciti vedete che belle l'anima mia languisce e brama gli atri del Signore languisce e brama pensiamo a questi due termini languire e bramare cioè non c'è bene non pensa altro non vedo l'ora noi dovremmo stare sempre in questo in questo in questo in questa attitudine non vedo l'ora cioè fammo così se il nostro Signore dicesse guarda stai a posto debiti pagati e missione finita se te lo venisse a dire stasera si muore ma le fai le capriole oppure no ma le capriole ma questo è proprio l'ambriacasse cioè la personale campana a festa 48 solo ti dice così missione finita e conti pagati ok ma se ti dice missione finita e conti pagati ma ragazzi qui salutiamo a tutti preghiamo per voi ma io io me ne vado molto volentieri questo dovrebbe essere cioè io vi dico che conosco fedeli che se sentono queste cose scandalizzano ma che dice questo qua ma che vuole morire lo dico io ma che matto ma che vuole morire ma che matto è assicuro allora il catechismo della chiesa cattolica ecco chiosando un po' il primo di questi brani andando anche a ad abbracciarne un altro che citiamo soltanto in questa versione breve scrive così grazie a Cristo la morte cristiana ha un significato positivo per me il vivere è Cristo il morire è un guadagno cita il brano che abbiamo letto della lettera di Filippesi certa è questa parola se moriamo attenzione con lui vivremo anche con lui qui c'è secondo Timoteo 2.11 attenzione diciamo due parole se moriamo con lui la lettura che ho letto prima si legge ai funerali andare in esilo dal corpo ma attenzione questo non è vero per tutti questo non è vero per tutti noi dobbiamo morire con lui morire con lui che significa? significa essere in grazia significa morire da suo amico non morire con una persona che ha 50 anni che mette piede in chiesa e ci rientra orizzontale io non voglio certamente anticipare i giudizi dell'altissimo che ci pensa lui a giudicare i suoi figli e a e a farlo in maniera perfettissima è ineccepibile noi non possiamo sapere cosa c'è nel cuore degli uomini per cui non è automatico certo assoluto al 100% che una persona che 50 anni ha messo piede in chiesa e ci ritorna orizzontale e stia all'inferno beh però se se la si definisce questa cosa probabile fermo restando l'imponderabile perché noi comunque dobbiamo fare delle delle valutazioni che si attengano ai fatti oggettivi non possiamo spingerci a sostituirci a Dio e a giudicare le persone questo no ma di per sé un comportamento completamente indifferente sprezzante verso Dio e i sacramenti e certamente non è una cosa gradita al cielo e che ti porta in paradiso a meno che non ci siano tante circostanze che soltanto Dio possa conoscere in qualche modo diminuiscano attenuano attenuino scusate le responsabilità soggettive di chi ha posto in essere comportamenti del genere quindi se moriamo con lui vivremo con lui ma se moriamo senza di lui vivremo senza di lui un altro vangelo che si legge i funerali che è quella parte del discorso di addio dice signore non sappiamo dove vai come possiamo conoscere la via io sono la via la verità è la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me prima dice guardate non si è turbato il vostro cuore io vado a prepararvi un posto quando vi avrò preparato un posto vi prenderò con me Tommaso dice non sappiamo dove vai come possiamo conoscere la via io sono la via nessuno viene al padre se non per mezzo di me vuoi venire dove io ti precedo cioè in cielo devi vivere in comunione con me devi passare attraverso di me ora riprendo la citazione del Catechismo della Chiesa Cattolica numero 1010 non mi ricordo se l'ho detto oppure no qui sta la novità essenziale della morte cristiana mediante il battesimo il cristiano è già sacramentalmente morto con Cristo per vivere una vita nuova e se noi moriamo vedete cosa dice il Catechismo nella grazia di Cristo la morte fisica consuma questo morire con Cristo che già si è realizzato sacramentalmente nel sacramento del battesimo e compie così la nostra incorporazione a lui nel suo atto redentore ma la parola chiave è morire nella grazia di Cristo ecco perché non so se ne ho già parlato nelle catechesi precedenti dato che io purtroppo con tutte le cose che dica che faccio poi mi scordo credo di sì però è un crimine contro la nostra anima quando siamo noi responsabili quindi andare a morire senza preparazione remota e prossima San Paolo scrive ogni giorno affronto la morte noi ogni sera quando andiamo a dormire dobbiamo dirci ma se il Signore mi chiamasse oggi che gli vado a raccontare sono pronto a morire c'è una preparazione remota la preparazione remota la facciamo con come viviamo tutti i giorni e poi c'è la preparazione prossima facendo tutto quello che dobbiamo fare prima della morte confessione possibilmente generale possibilmente generale olio santo viatico preghiera di raccomandazione dell'anima se il Signore ti dà la grazia che coroncina la dina misericordia vediamo ribondo tutto anche a pari tutto e attenzione con i nostri cari noi non possiamo violentare un nostro familiare ogni tanto mi fanno le domande oppure mi scrivono le mail ma se non vuoi i sacramenti non si può fare niente puoi soltanto pregare puoi proporglielo ma se non vuoi non puoi costringerlo però attenzione che c'è stata un sacco di gente che nemmeno glielo dice perché c'ha credo di averlo detto c'ha la mentalità che no 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 se vede il prete questo può pensare che sta per morire oppure che il prete lo chiamano che è una cosa sciagurata quando quello già capisce più niente quando non capisce più niente certo che l'orario santo glielo puoi dare perché l'orario santo si può dare fino a quando una persona è in vita fino a quando il cuore batte ma comunque non può fare né la confessione né il viatico e non è la stessa cosa aver avuto queste due certo puoi anche dare le indulgenze nell'articolo mortis però allora dentro la dinamica della morte come ritorno in patria ci sono degli atteggiamenti molto cristiani con cui affrontare la morte non dobbiamo ricordare anzitutto come punto primo che la morte è la soddisfazione estrema del peccato noi moriamo perché c'è stato il peccato originale la morte è stata combinata da Dio ad Adamo gli fa tutta quanta la la doverosa ramanzina e alla fine tu tornerai polvere perché dalla polvere sei stato tratto quello che ci dice Santa Madre Chiesa il mercoledì delle ceneri in quel tempo in cui la quaresima è proprio il tempo in cui uno vuole fare santamente la quaresima ma la quaresima di pensare al giorno della tua morte corporale ed è per questo che pensando alla morte corporale si pratica la mortificazione del corpo dei sensi e delle passioni cioè di tutte quante quelle cose che ti possono portare alla morte eterna se tu non le tieni mortificate non le fai morire in questa vita si gioca un pochino sul termine morte no quindi la morte è soddisfazione quando il cristiano dice signore mio io muoio come atto d'obbedienza io merito di morire mi sta bene ce lo siamo mai detti mi sta bene affrontare questa umiliazione perché la morte è comunque un'umiliazione un travaglio ma a me mi sta bene tu non dovevi morire in croce io l'abbiamo mai detta tu non dovevi morire sei soltanto tu che non dovevi morire non io io devo morire e te l'offro volentieri questa cosa perché tanto quando c'è è niente in confronto a quello che ho fatto non riparerai tutti i peccati che ho commesso sia personalmente sia quello che come membro della razza umana ho commesso nel mio progenitore perché c'eravamo anche noi c'eravamo non come responsabili direttamente evidentemente ma come contenuti nel nostro capostipite tutta l'umanità era contenuta per questo è uno dei motivi per cui il peccato originale coinvolge tutti non l'unico e quindi io muoio come atto di suprema obbedienza a Dio come assunzione consapevole volontaria responsabile e gioiosa per certi aspetti sono contento almeno offro questa espiazione estrema certo questo c'ha senso dentro una vita dopo un pochino di espiazioni al Signore gliel'abbiamo offerte non date retta ve l'ho già detto a chi va dicendo in giro che non serve fare queste cose queste cose da medioevo a destra a sinistra che tanto il nostro Signore ha già sofferto lui e quindi buonanotte questo è contraddetto da tutta la storia di centinaia di migliaia di vite di santi come si permette chi parla in questo modo di andare a sbugiardare una schiera di santi canonizzati dalla Chiesa ci stanno scritte nelle biografie quello che hanno fatto ma tu chi sei ma come ti permetti non è che siccome sei prete o sei vescovo tu ti puoi permettere di andare a parlare ma che sei matto chi te l'ha data questa cioè tu stai abusando tu l'autorità ce l'hai perché te l'ha da nostro Signore se c'è il sacramento dell'ordine sacro e ancora di più c'è l'Episcopato che c'è la pienezza dell'ordine sacro ma tu quella autorità la devi usare a servizio del bene non ne puoi abusare è una cosa gravissima Sant'Alfonso a proposito di questo primo punto credo di averlo detto anche questo però è una cosa 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 perché non mi ricordo quindi è meglio che lo ripeto dice se una persona è capace di nell'imminenza della morte fare bene questo esercizio cioè mettersi davanti a Dio e dire bene Signore mio io ti offro volentieri la mia vita che tu mi hai donato è giusto che io muoia anzi mi puoi fare soffrire prima della morte l'accetto sapete che per esempio la Chiesa insegna che è lecito evidentemente quando si è afflitti da un male molto grave assumere gli atti dolorifici la morfina insomma come si chiama adesso non viene il termine specifico le cure palliative però la Chiesa afferma anche che è lodevole e quindi la Chiesa lo loda certo non lo chiede perché questo è un eroismo chi in tutto in parte rinuncia volendo offrire le sue sofferenze connesse allo stato di dolore che ordinariamente in caso di malattie grave perché della morte ha scontro dei suoi peccati la Chiesa non lo mica condanna chi fa così non è che dice quello è un pazzo furioso taglia la morfina e zitto non ha mai detto questo andate a leggere i documenti andate a leggere il catechismo su questo non l'ha mai detto è evidentemente che non è obbligatorio per tutti l'eroismo non può mai essere imposto e che una persona che non ce la fa cerchi un po' di conforto di alleviamento nel dolore non fa peccato ok ha tutta la comprensione possibile e immaginabile ma se c'è qualcuno mosso da eroismo da spirito eroico che dice no io fino a quando ce la faccio rinuncio è questo tanto tanto di cappello e tanto di purgatorio risparmiato diciamo io parlo sempre molto molto chiaramente non ci faccio troppo in gira a me non mi importa niente che mi dicono che vivo nel 2022 sto ancora nel medioevo ma non me ne importa proprio niente possono stare fino al giorno del giudizio universale non mi interessa come diceva San Paolo il mio giudice il Signore lo lascia a lui giudicare quello che dico e quello che espongo se non gli piace a lui me la farà pagare a suo tempo d'accordo su queste cose c'ho qualche dubbio insomma perché sono abbastanza sicuro che sto dicendo cose che hanno dalla mia la testimonianza unanime ecco dei membri insigni della Chiesa o oltre come soddisfazione per il peccato c'è un'altra cosa bella un gesto di amore un gesto di amore il gesto supremo di amore allora anzitutto c'è c'è una dimensione agapica se non muoio non potrò vivere nell'eternità non potrò godere di te ma attenzione se qui rimando ancora a tenere amata noi godremo di Dio ma in un certo senso peculiare accidentale ovviamente che non cambia niente la sua felicità intrinseca guardate che anche Dio godrà di noi perché la mia anima la tua anima l'ha fatta lui come la tua non ce n'è nessun'altra se la tua manca all'appello cioè l'anima X manca all'appello quindi è una sfumatura tra le infinite variabili dell'altissimo ma che è del tutto peculiare che manca e l'amata spiega benissimo che gli altri beati ne soffrono e loro fanno il tifo che più persone possibili vanno in paradiso perché ogni nuova anima che c'è che è un unicum apporta delle caratteristiche dei piaceri dei diretti propri ecco perché nessuno di noi potrà fare il depresso le cose di questo genere ah io non servo a niente ah io che grazia di vita faccio ma che dici se anche fosse successo che nella vita terrena per circostanze circontingenti qui è tutto qui è tutto alterato qui è tutto falsato qui siamo sotto il potere del 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 maledetto del nemico siamo pieni di peccati di impicci vari quindi le cose qui possono non funzionare come avrebbero dovuto e bisogna accettarle bisogna offrire uno spirito di benitenza ma non andare a trascendere perché tu l'anima ce l'hai comunque e la cosa più importante è che la porti in paradiso quell'anima lì stai a fare tutte le cose non ti sei realizzato non ti sei realizzato queste sono cose che hanno la loro per carità per importanza ma non sono le cose più importanti quindi è un gesto io mi dono quindi l'accetto come espiazione dei peccati ma te ne faccio anche un dono per iniziare a vivere nell'eternità Sant'Alfonso dicevo prima insegnava chi vive in questo modo la morte non passa per il purgatorio non passa perché perché sta facendo in maniera perfettissima sapete no sono più meritorie le penitenze che ci affida nostro Signore di quelle che ci scegliamo noi anche se ce le dobbiamo scegliere perché quelle hanno il merito dell'esercizio della nostra libertà cioè non sarei tenuto e ti offro una cosa perché te la voglio offrire liberamente però prima se fanno quelle che ci manda nostro Signore e poi se fanno quelle che noi gli offriamo e che gli vuoi offrire di più grande che accettare la morte che è la benitenza per Antonio Masi che il Signore ci ha dato come conseguenza del peccato quindi la morte come gesto supremo di amore soddisfazione per il peccato è il gesto supremo di amore e poi quello che abbiamo visto si torna dal Padre si torna alla Patria beata si varca la soglia del cielo è il dies natalis deve essere così in cui morendo si nasce alla vita io dico sempre quando io dico quando è la festa di San Pio da Pietrelcina è il 23 di settembre che è successo il 23 settembre è nato San Pio da Pietrelcina no non è nato è nato il 25 maggio del 1887 è morto il 23 settembre del 1968 quindi qual è la festa di San Pio il giorno della morte perché il giorno della morte per i santi è il giorno di festa i martiri andavano al martirio cantando i martiri dei primi secoli cantando i salmi oh ma quelli venivano sbranati vivi dai leoni c'erano delle scene che altro che i film dell'orrore adesso fanno i film le serie ultra realistiche se dovessero far vedere una scena di uno che viene sbranato da un leone se la vedi la fiction sembra vera ti viene un colpo ma chi andava allo stadio al Colosseo non è che vedeva la fiction i gradatori si ammazzavano con le spade vere non era un film non è che finita la scena ti alzi e te ne vai cambiate in camerino come succede nei film oppure i leoni non è che era una sceneggiata e poi andavano a morire cantando 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 diceva nei giorni scorsi un testo che ho letto credo nel breviario ma come fai a morire cantando se tu non hai pensato tutti i giorni alla morte del Signore e in qualche modo dice l'hai anche desiderata che bello che sarebbe se la morte mi rendesse un pochino simile a te muoio di una morte simile alla tua tu hai versato il sangue per me l'ho perso pure io per te ci fa un po' paura a tutti quanti però se il Signore cedesse la forza ancora sarebbe la morte più bella di tutti speriamo che cedesse la forza io non so col sangue sono un po' allergico molto facilmente impressionabile sono molto sensibile quindi però di per sé sarebbe la cosa più ospicabile di tutti il quarto aspetto è la grazia la morte come ritorno in patria avviene nella misura in cui lo Spirito Santo accompagna il nostro trapasso ma lo Spirito Santo è presente in noi attraverso la grazia la stessa cosa dire la presenza dello Spirito Santo dire di stare in grazia ed è per questo che va vissuta in questo modo c'è la preparazione remota cioè pensiamoci adesso cioè una messa in più una messa in meno al momento della morte pesano una confessione in più una confessione in meno pesano cioè investiamo cioè il mio compito è semplicemente di non c'è niente delle cose che sto dicendo adesso che sia obbligatorio è obbligatorio andare a amministrare tutti i giorni no è obbligatorio confessarsi spesso no è obbligatorio pregare tanto no è obbligatorio fare penitenza no ma se non le fai non arrivi alla morte e all'incontro con Dio come chi ha fatto tutte quante queste cose questo togliamocelo dalla testa perché si muore come si è vissuti quello che si fa si ritrova il Signore segna tutto nel suo libro è tutto tutto e quello che gli abbiamo dato ce lo dà in cambio ce l'ha detto Gesù nel Vangelo con la misura con cui misurate sarà misurata a voi in cambio quanto gli hai dato di te stesso al Signore tanto lui ti darà al momento dell'incontro con lui ed è sacrosantissimamente giustissimo che sia così un'altra cosa importante noi abbiamo degli alleati al momento della morte insegnano i maestri di spirito arrivano i diavoli a cercare di fare gli ultimi assalti per strappare quell'anima al Signore noi abbiamo anzitutto il rosario e la Madonna è una bellissima supplica alla Madonna di Pompei fatta da poco si muore con il rosario in mano stretto tra le dita ma soprattutto con i nomi di Gesù di Maria sui cuori nei cuori e sulle labbra con quelli i diavoli scappano ma poi abbiamo anche l'Angelo Gustone da evocare quest'anno purtroppo amici la festa degli Angeli Gustone è capitata il 2 io ho recuperato il 3 come messa a vuotia per parlarne un po' il Gio Gustone è importantissimo per il momento della nostra morte anche perché sarà lui a prendere per mano la nostra persona e dire donnamo quando quando siamo morti che fine facciamo ci porta l'Angelo Gustone certamente con i tempi che sono fulminei usciti dalla dimensione dello spazio-tempo segnato dal ritmo del secondo i tempi schizzano a velocità supersoniche rimando sempre a tenera nata per chi volesse approfondire quindi è un attimo che ti trovi dinanzi a Dio che c'è il giudizio particolare poi lo vedremo però comunque l'Angelo Gustone ha questo ministero di presentarci al cospetto del giudizio del Signore dopo che ci ha custodito speriamo senza mettere troppe mani davanti agli occhi per una vita speriamo che ci credano tutti agli Angeli Gustone che li preghino bisogna pregarli bene spesso agli Angeli Gustone poi perché tutto questo sia vero la morte è cosa a cui ci si deve preparare noi diciamo nell'Ave Maria prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte una preghiera molto in auge un tempo era salvaci dalla morte improvvisa voi pensate un po' i segni dei tempi no? se qualcuno viene a dire oh lo sai a quello l'altro giorno dormiva gli ha preso un infarto se ne è manca accorto e se ne è andato oh beato lui tutti quanti dicono ma tu sei sicuro che è beato lui certo se ha fatto una vita santissima se l'ha fatta la comunione la sera stessa se l'ha confessato il giorno prima aveva riparato tutti quanti i guai beh potrebbe pure essere una grazia ma ordinariamente non lo è la morte improvvisa non è una grazia ordinare è una disgrazia perché non ti consente di prepararti né di poter vivere tutte queste cose che stiamo dicendo di la morte come atto consapevole come atto di offerta come gesto di espiazione come concretizzazione di un desiderio percepito di una vita per una vita di voler tornare alla casa del padre insieme all'angelo custode a Maria Santissima poi c'è un patrono della buona morte chi è? è San Giuseppe no? anche qui consigli per gli acquisti c'è un ciclo di catechesi dedicato a San Giuseppe dove ce n'è proprio una che parla di San Giuseppe che è patrono della buona morte perché il patrono della buona morte? per un motivo molto semplice perché la tradizione evidentemente più che attendibile ci ha tramandato che San Giuseppe fosse morto prima che Gesù cominciasse la vita pubblica e quindi questo santissimo uomo come si meritava per la sua straordinaria santità ha avuto il dono inestimabile di morire tra le braccia di Gesù di Maria insomma non mi sembra tanto poco e quindi per questo è considerato nominato honoris causa proprio per questo suo grande privilegio patrono della buona morte ma anche qui non limitiamoci a pregare il beato Giuseppe soltanto al momento della morte no? qui mese di marzo i mercoledì non dico di fare le mille a Giuseppe come qualche pazzoide insomma che si che si cimenta in questo gesto ascetico veramente impressionante però a te o beato Giuseppe io da quando sto a Sermoneta siccome San Giuseppe il potrone di Sermoneta ho proposto ai fedeli che ancora non mi hanno ammazzato insomma di recitarla tutti i giorni al termine della Santa Messa dopo la la preghiera alla Madonna a San Michele Arcangelo ma è una cosa molto molto bella a te o beato Giuseppe è una preghiera indulgenziata egli ancora detta in latina a te beate Iosef in tipolazione nostra Confugimus ad comporato sponse due Santissimo Oxido Potocino Fogaduno Presidente L'Exposcimus quindi però bene anche in italiano una bellissima preghiera a San Giuseppe un po' lunghetta non è breve come l'angelo di Dio però il tempo dedicato alla preghiera è sempre tempo santo non aspettiamo la morte per invocare il padrone della buona morte però soprattutto al momento della morte invochiamo detto tutto questo quindi detto tutto questo è chiaro che adesso non è che uno fa il fanatico la morte mantiene una valenza di per sé l'abbiamo già visto non positiva non ci sarebbe dovuta stare la morte è anche distruzione mortificazione della persona cioè il fatto che il nostro corpo diventi poi un cadavere cibo per i vermi per essere molto diretti e prosaici poco prosaici non è proprio il top sapete sapete che Gesù ha pianto sulla tomba di Lazzaro Gesù non faceva cose insensate non ha pianto sulla tomba di Lazzaro perché era morto l'amico suo cioè per carità Gesù voleva molto bene a Lazzaro e Lazzaro è stato il suo miglior amico Gesù ha voluto vivere questa dimensione dell'amicizia io auguro a tutti di trovare uno o più amici l'amicizia è una cosa meravigliosa una cosa bellissima stupenda quando è vera ci salvi il Signore dalle delusioni ricevute dagli amici insomma che purtroppo possono esistere e fanno parte di quelle grandi pene spirituali più grandi di quelle materiali che se il Signore ce le manda le accogliamo con amore e gliele offriamo ecco era un grande amico certamente Lazzaro di Gesù ma Gesù questo si vede benissimo negli scritti di Maria Valtorta non stava semplicemente piangendo così banalmente anche se per carità la morte del suo migliore amico ma il contemplare da dentro la natura romana forse anche pensando alla sua prossima morte questo questo orrore la morte è comunque l'estremo conseguenza del peccato e Dio non può come dire tollerare non gli piace il peccato e quindi non gli piace l'effetto prodotto dal peccato perché la morte è questo l'effetto prodotto dal peccato e quindi Gesù ha pianto ha pianto la morte deve essere distrutta Gesù l'ha già distrutta la morte l'ha vinta la morte noi non ancora no ma Gesù si l'ultimo nemico ad essere annientato si legge la lettera di Corinzi prima sarà la morte non ci sarà più morte nel lamento nel pianto nella gelosalemma celeste ci dice il libro dell'Apocalisse no? quindi questo per dire che la morte contiene possiede comunque una valenza negativa è redente ed è trasformata nella vita di un cristiano quindi fondamentalmente in un anelito per il ritorno in patria però sarebbe stato meglio ritornare in patria come c'è tornata la Madonna quindi passando attraverso un sonno statico che poi ti sveglia e sta in paradiso era meglio no? quindi molto meglio attenzione che il catechismo della chiesa cattolica forse sarebbe il caso di andarlo proprio a leggere così prima di chiudere forse è meglio andarlo un po' a vedere nel 1113 parla esplicitamente della reincarnazione che ahimè adesso va molto di moda disgraziatissimamente ecco anche dove non dovrebbe andare di moda nel 1113 scusate che ho sbagliato la citazione no? l'incarnazione non esiste è dottrina eretica condannata dalla chiesa senza appello la morte si reagisce nel 1113 del catechismo della chiesa cattolica cito è la fine del pellegrinaggio terreno dell'uomo è la fine del tempo della grazia e della misericordia che Dio gli offre per realizzare la sua vita terrena secondo il disegno divino e per decidere il suo destino ultimo attenzione è bellissimo questo numero quando è finito l'unico corso della nostra vita terrena unico corso della nostra vita terrena e qui c'è una citazione del concilio Vaticano II della Lumen Gentium noi non ritorneremo più a vivere altre vite terrene si legge nella lettera agli ebrei è stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta è stabilito è scritto quindi non c'è nessuna reincarnazione reincarnazione dopo la morte chi professa la reincarnazione dopo la morte è fuori della comunione con la Chiesa c'è una sola vita terrena c'è la morte corporale e c'è la risurrezione della carne stop questa è la nostra fede questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore bene possiamo certamente chiudere che è ora la prossima volta Dio piacendo cominceremo a parlare del giudizio particolare quindi cosa accade cosa avviene immediatamente istantaneamente meglio dopo la morte la prossima amici cari la mia benedizione che Dio vi benedica e la Madonna la Vergina Santissima sempre vi protegga è la mia benedizione la mia benedizione la mia benedizione